Inelegibilità Anzaldi, contrattacca ricorrendo alla giustizia. Pippo Anzaldi da sempre in prima linea nelle battaglie ambientaliste passa al contrattacco ricorrendo alla giustizia proprio contro quella delibera di inelegibilità. Anzaldi è stato eletto consigliere comunale nella lista che sosteneva il ballottaggio del sindaco Italia. Subito dopo il giuramento i consiglieri di centro-destra hanno sollevato il problema della sua inelegibilità sostenendo che non avrebbe potuto candidarsi perché non si era dimesso in tempo utile dalla carica di componente del Consiglio dell'Amministrazione del Consorzio a rimanere protetta del primidio. Anzaldi ha argomentato la propria posizione sostenendo di avere ricoperto quell'incarico senza percepire soldi per puro spirito civico. Per evitare anche i problemi di incompatibilità si dimise prima di essere nominato consigliere. A sostenerlo l'associazione Lealtà e Condivisioni che con il suo coordinatore Francesco Ortisi ha dato mandato agli avvocati Carta e Gianni di depositare al Tribunale l'atto di impugnazione della delibera con cui la maggioranza del Consiglio, non convalidando le elezioni di Anzaldi, lo ha estromesso dal civico consesso. Con il ricorso dell'autorità giudiziaria si intende riaffermare la correttezza dell'operato di Anzaldi, il suo diritto a ricoprire il ruolo affidato gli dal consenso degli elettori, dimostrando la illegittimità di una deliberazione assunta per ragioni politiche in contrasto con le norme del diritto.